Ancora non ci crede il 23enne Massimiliano Sertori, giovanissimo natural bodybuilder di Pisoni e operaio nella vita che dopo anni di sacrifici ha realizzato tutti i suoi sogni in ambito sportivo. Sabato 5 novembre a Burbank negli States, nella contea di Los Angeles, ha partecipato alla Coppa del Mondo conquistando sei primi posti. Categorie Classic Physique Open, Sport Model Under 23, Sport Model Open, Overall Classic Physique Pro Card, Overall Pro Card PNBA Sport Model e quello come miglior posatore in assoluto senza contare il terzo posto Man Physique Pro. Risultati che lo hanno reso il primo atleta italiano a possedere tre tesserini da professionista in tre diverse categorie. Ma non è tutto, non pago dei trofei. Il weekend successivo Massimiliano ha coronato il suo più grande desiderio, quello di partecipare in Nevada al prestigioso Mister Olimpia. Quindi ci ritroviamo a Las Vegas per le Olimpiadi il 10, l'11 e il 12 di novembre dove mi aggiudico tre primi posti conquistando il record di prima volta di un italiano a conquistare tre ori. Un'altra tessera professionista nella categoria Sport Model. Il giorno successivo ho deciso di fare il debutto da professionista in questa categoria, in Sport Model, dove sono riuscito a arrivare terzo conquistando un alto record come primo italiano a essere riuscito a entrare nei primi tre nel professionismo e un altro terzo posto nella categoria di Coppia. Primo italiano a conquistare tre ori nell'evento internazionale, Vettaglian Stellion, come stato soprannominato, è stato anche nominato atleta dell'anno da Danny Kaos, presidente della Federazione Mondiale di Bodybuilding, anche in questo caso un primato tricolore. Diventando Mister Olimpia, avere tre tessera professionista, essere inserito nelle leggende dal presidente, è il massimo a cui raggiungere. Quando ho iniziato a 13 anni il mio obiettivo era andare all'Olimpia, cercare di riuscire ad andare e partecipare, dieci anni dopo, quindi a 23 anni, posso dire ora di esserci riuscito. E ora l'obiettivo è di godermi un attimo la mia famiglia, riprendermi da quello che è successo, mangiucchiare un po' e successivamente il futuro si vedrà, se tornare in gara oppure portare qualche atleti io in gara. Voglio ringraziare tanto i miei genitori che mi hanno sempre appoggiato da quando ho iniziato questo percorso, le mie ragazze, il mio preparatore Simone, il mio sponsor per il grande aiuto che mi ha dato durante queste preparazioni, la federazione NBFI, grazie a me stesso per aver mai mollato e sono orgoglioso di dire di aver raggiunto il sogno della mia vita ed essere diventato campione olimpionico.